Professoressa dell'Istituto Professionale Carlo Rosselli di Castelfranco, ricoverata da ieri sera all'ospedale San Giacomo, meningite di ceppo C la diagnosi. La 43 anni si trova in condizioni gravi in terapia intensiva e per familiari, colleghi di lavoro e studenti è scattata la profilassi. 15 ragazzi interessati, di fatto una classe, un gruppo ristretto, d'altro canto la docente durante la settimana insegnava per un numero limitato di ore e la trasmissione della meningite richiede contatti stretti e ripetuti. Questa mattina sono iniziate le operazioni di profilassi da parte dell'igiene pubblica, naturalmente la profilassi viene fatta ai familiari stretti e a contatti stretti, per cui i colleghi dell'igiene pubblica stamattina si sono recati alla scuola e hanno iniziato a valutare chi doveva essere seguito per la profilassi. Nel pomeriggio a scuola l'incontro con i genitori da parte delle autorità sanitarie per informarli delle misure di prevenzione adottate e rispondere a dubbi e interrogativi. Il direttore generale dell'Ulss2, Francesco Benazzi, ha raggiunto telefonicamente il sindaco Stefano Marcon per informarlo della situazione. La diagnosi di meningite all'ospedale di Castelfranco è stata rapida. La professoressa è arrivata in pronto soccorso ieri sera alle 19. Alle 22 il ricovero in terapia intensiva. Nella notte il laboratorio di microbiologia del Caffoncello ha elaborato i campioni prelevati. Alle 9 di stamattina era già stato identificato il ceppo. I colleghi di Castelfranco sono stati efficientissimi. Nel giro di poche ore ci hanno dato l'orientamento. Il materiale è arrivato qui a Treviso. Abbiamo messo sulla biologia molecolare e abbiamo tipizzato il ceppo. Sappiamo che è un gruppo C e questo comunque ha permesso l'avvio delle profilassi. La 43 ne rimane in terapia intensiva costantemente monitorata. Le condizioni sono serie, è in rianimazione e adesso dovremo aspettare le prossime ore per vedere come andrà.